Nominati gli assessori della giunta del sindaco Alberto Soressi, vice sindaco sarà Mimma Moscatiello che si occuperà anche di rapporti con i quartieri, cultura, pubblica istruzione, politiche scolastiche, formazione professionale, politiche giovanili e politiche del lavoro. Katia Viscardi avrà le deleghe a servizi sociali, politiche dell'assistenza, agricoltura e foreste, pari opportunità, ambiente, rapporti con associazioni, enti assistenziali, parrocchie, ASL e consorsi dei servizi sociali. A Daniele Berrio vanno pianificazione turistica, turismo, commercio, artigianato, attività produttive e sport. Franco Gemelli si occuperà di bilancio, finanze e tributi, patrimonio, personale, anagrafe e stato civile, mentre ad Andrea Viganò toccheranno lavori pubblici, urbanistica, viabilità e polizia municipale. Il sindaco invece ha tenuto per sé le deleghe ad affari generali, sanità e protezione civile. Pronta in tempi rapidi la squadra del neosindaco Soressi, quali sono i criteri che ha seguito per la nomina di questa giunta? I criteri che ho utilizzato, fortunatamente io ho avuto dalla mia una squadra che mi ha permesso di lavorare assolutamente con la carta bianca, per cui i criteri sono stati quelli di individuare persone competenti, persone appassionate per il lavoro che andranno a fare e una squadra che sa lavorare insieme. Lei ha dato nessun manuale Cencelli? Nessun manuale Cencelli, fortunatamente, anche perché altrimenti non avrei proprio accettato in partenza. Si è detto che Omenia ha bisogno di ritrovare uno spirito di solidarietà, che ha bisogno di ritrovare una voglia di lavorare insieme e questo necessariamente deve prescindere dalle tessere di partito che uno ha in tasca. Con lei ha rilevato il dato dell'astenzionismo, quindi c'è bisogno di riprendere un dialogo con la città? Sì, certamente, noi lo ripartiremo proprio da un discorso di ripristinare un dialogo attraverso la rivitalizzazione dei quartieri e di tutte le associazioni presenti sul territorio.